I più antichi testi scritti in etrusco conservati sono spesso semplici formule che esplicitano il possesso o il dono. Quando apparve la scrittura in Etruria, l'onomastica era ormai sostanzialmente definita. Apprendiamo così nomi di individui che dobbiamo ritenere appartenessero all'elite della società del tempo. Questi avevano un nome individuale, il prenome, accompagnato da un secondo nome ereditario, il gentilizio, che identificava la famiglia di appartenenza come gli attuali cognomi. L'uso dei gentilizzi differenziava gli etruschi e altre popolazioni della penisola, come ad esempio i latini, dal resto dei popoli del Mediterraneo antico, che aggiungevano al nome individuale quello del padre, cioè il patronimico o soprannomi. Tale importante invenzione era strettamente connessa all'ereditarietà della terra e dei possedimenti ed è ancora oggi un significativo lascito dei nostri antenati.